Un importante appuntamento oltre per il fatto che invitiamo uno dei sindaci più amati d'Italia con Matteo Ricci, anche perché responsabile del PD enti locali. Continua la campagna congressuale a sostegno di Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, in questa prima fase di voto tra gli iscritti nei circoli che culminerà nella fase delle primarie aperte del 30 aprile. Un'iniziativa importante per rilanciare il lavoro dei circoli nei territori, per rilanciare il riformismo del fare, cioè occuparsi dei problemi, risolvere le problematiche per sconfiggere il populismo. Siamo contenti di invitare Matteo Ricci, che è uno dei massimi esponenti di questa formazione politica e del PD, che vuole insieme a noi rilanciare questa proposta politica importante. Invitiamo tutti a partecipare all'auditorium Petruzzi, appunto venerdì 31 marzo, alle ore 17.30, e speriamo che sarà una giornata di confronto utile per risolvere i problemi del territorio, ma per poi rilanciare la stagione di governo riformista con Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico. A livello politico, sia su base locale che nazionale, però l'obiettivo è anche quello di tenere unito questo partito e di evitare altre uscite e sfilacciamenti che ci sono stati negli ultimi tempi. Il Partito Democratico sicuramente deve riscoprire un riformismo nel fare, deve ricostruire la sua casa in maniera importante e deve abituarsi a stare insieme. C'è un confronto leale, aperto, siamo l'unico partito che elegge i propri dirigenti, i propri militanti attraverso delle primarie aperte e diciamo che sta a noi rilanciare questa fase di partecipazione attiva alla politica, ma anche di confronto, di tematiche, di sviluppo delle idee che poi dovranno diventare programmi di governo e realizzazioni capaci di rilanciare i nostri territori e il paese tutto.